Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Questo videocorso nasce da una piacevole chiacchierata fatta con la brava docente digitale e competente docente digitale Elisabetta Nanni. Con Elisabetta, con la quale vige un rapporto di stima reciproca, ci siamo proprio interrogati su come talvolta il docente perda un pochino di vista che l'approccio alle risorse digitali per la didattica debba essere curioso e critico. Non si può utilizzare tutto ciò che ci viene in mente per la didattica digitale così come dobbiamo aver chiaro sempre l'obiettivo da raggiungere. Ed allora, se da piccoli dicevamo 123 stella, ora diciamo 123 apps. Questo è un sito web 123apps.com, sito di riferimento in alto, che noi andiamo ad aprire con un browser quale Google Chrome, Mozilla Firefox ed abbiamo a disposizione in una modalità sicura, perché gli sviluppatori dichiarano di non trattenere dati sul server, una serie di strumenti utilissimi, tra cui lo strumento per tagliare un file audio, per unire più files audio, i convertitori audio e video e addirittura la possibilità semplicissima di registrare il nostro video o audio tramite il microfono e la webcam. E guardate quanto è semplice. Io prendo a titolo esemplificativo proprio il registratore voce con un clic sul microfono. Se mi chiede di cliccare consenti la risorsa, ricordatevi che per l'audio ed il video questa operazione va sempre fatta. E adesso un clic sul mio pulsante microfono rosso color porpora e 123 prova 123 stella, ecco che l'onda sonora viene generata. E vado poi ad interrompere con un clic su stop la mia registrazione e ancora con un clic su salva, vado a fissare nella cartellina, nel mio caso dei download, il mio file in formato mp3, potendo anche naturalmente con un clic alla fine della riga nome file digitare il nome che desidero per la mia registrazione. Registrazione di prova. Un clic su salva poi confermerà la mia operazione. Faccio un clic sul logo 123 apps per tornare all'indice. Io clicco ora su video recorder. Mi raccomando ricordatevi che due versioni di Andrea Cartotti in realtà io non le posso avere quindi qui io non vedrò la mia simpatica faccia però il procedimento è analogo perché nel caso della registrazione voce iniziavo con un clic sul bottone microfono e questo è il classico pulsante rec rotondo che noi troviamo anche sui nostri dispositivi mobili. Ebbene torno all'indice ancora con un clic su 123apps.com, vi invito ad aggiungere i vostri preferiti nel browser 123apps.com e lascio a voi come d'abitudine la prova pratica su strada per ogni ordine e grado di questa simpatica ed utile risorsa web, quello che chiamiamo in gergo un applicativo web. Ciao a tutti da Andrea Cartotto e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo video corso.